Musica Siamo qui nella nostra ufficina con Genduso Marcello Detto Cresta che finalmente ci presenterà la sua bellissima auto Certamente è piccola, dovevo iniziare kit estetico interno o esterno Partiamo da quello esterno Va benissimo Allora, comprende da kit parorti anteriore, posteriore, minigone, artigianali by impact Allargamento dei parafanghi un centimetro davanti e due e mezzo dietro Poi con eliminazione delle frecce anteriori Eliminazione maniglie, targhe Del fantastico scarico, sempre by impact, di traverso Poi l'alettone, biplano Dall'interno è il volante Braid dall'America Dei sedili sparco regolabili Schermo Clarion Al posto dei sedili dietro due bombe da 25 litri per l'assalto pneumatico Con compressore maggiorato Basta da non dimenticare i fantastici cerchi della TSV da 19 pollici Con le gomme 235-35-19 Grazie Cresta per essere stato con noi Grazie a te Ora un'altra breve pausa e ci rivedremo in studio tra pochissimo Grazie a te Grazie a te